L'Unione Europea ha combinato una multa da 345 milioni di euro a carico di TikTok per non aver rispettato la normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento agli utenti minorenni. Ad annunciarlo è stata la Commissione Irlandese per la protezione dei dati che agisce per conto dell'Unione Europea, poiché la sede principale di TikTok in Europa e in Irlanda. Alla piattaforma online sono stati inoltre concessi tre mesi per adeguarsi alle regole europee. Si tratta dell'epilogo di un'indagine avviata nel settembre del 2021. Le violazioni riscontrate riguardano il periodo compreso tra il 31 luglio e il 31 dicembre del 2020. L'autorità irlandese ha rilevato in particolare che gli account dei giovanissimi venivano resi pubblici in automatico al momento dell'iscrizione, ma nel mirino è finita anche la funzionalità che permette di collegare un account a quello del padre o della madre del minorenne. In questo caso TikTok non avrebbe verificato se l'utente associato fosse effettivamente un genitore o un tutore.